Ciao, sono Giuseppe Lennotti e vi raccolto come preparare il vostro pranzo di Pasqua con il box di ingredienti che vi arriverà a casa. Ho scelto una delle quattro ricette, ho scelto lo spaghetto allo scoglio, che è il piatto che ci rappresenta maggiormente. Avete quattro bustine sottovuoto, una di spaghetti, un'altra che in questo momento abbiamo messo nel Delis, che è lo scoglio, poi l'olio, con l'aglio e già il peperoncino, e poi il pepe, che andremo a fantumare, il pepe in grane che andremo a fantumare, io ho già iniziato per non far troppo rumore in camera, quindi lo andremo a battere con qualcosa per romperlo anche se non avete il macinapepe, così avete anche voi il vostro pepe che utilizziamo tutti i giorni. Andiamo a aprire subito, l'acqua sta già bollendo, andiamo a aprire subito il pacco di spaghetti. questo è un pacco di spaghetti per due, ne utilizzeremo uno solo, lo caliamo, lo lasciamo cuocere tre minuti, mettiamo l'olio e l'aglio nella padella calda a riscaldare, è già pesato quindi non dovete fare nient'altro, bisogna mettere l'olio e l'aglio, lo facciamo soffriggere, peggiormente, già c'è anche il peperoncino, quindi siamo già in linea, passiamo la pasta all'interno, una volta che l'aglio è rosolato andiamo ad aggiungere la metà del brodo, lo lasciamo andare e aspettiamo tre minuti. Passati i tre minuti abbiamo scolato gli spaghetti dall'acqua, vedete sono ancora rigidi, li mettiamo all'interno della padella e li lasciamo idratare, li lasciamo idratare come se fosse un risotto, quindi li andiamo a idratare senza mai girarli perché altrimenti si spezzano, quindi solo muovendoli un po', se ci accorgiamo che manca un po' di brodo lo aggiungiamo, se questo lo avete caldo è ancora meglio, però onde evitare di occupare molti fuochi, abbiamo deciso di averlo in un contenitore, l'acqua non serve più, facciamo bollire, aggiungiamo ancora un po', cosa fondamentale è che non abbiamo aggiunto il sale né nell'acqua né nella salsa, è tutto già corretto sia di sale che di tutto, quindi continuiamo a muoverla come se stessimo risottando senza mai mettere il mestolo dentro altrimenti si rompe, via! Allora ci siamo, gli spaghetti sono corti, come dicevo prima battiamo il pepe con uno strumento di fortuna, un bicchiere, io ho questo cilindro d'acciaio, in modo che viene quasi con cassè, lo apriamo, se ci siamo, pronti per l'utilizzo, lo diamo qui e andiamo a impiattare, scaldiamo il mestolo nell'acqua calda che avevamo prima, sopra il pettone, ovviamente porzione abbondante, porzione casalinga, un po' di salsa, e lo finiamo col pepe. Grazie a tutti!